Ciao amiche e ciao amici benvenuti in questo nuovo video. Sì come avete visto oggi ho famo strano perché per la prima volta in questo 2023 e a dire il vero per la prima volta nel corso di tutti i video acquisti vi separo appunto gli acquisti del mese e vi porto gli acquisti della prima parte del mese di gennaio 2023. Prima di farlo però è doveroso ricordarvi che se non siete iscritti al canale e volete darmi una mano, volete supportare questo progetto beh potete farlo, attivate la campanella e impostate la voce notifiche su tutte. Se poi invece siete degli abituali fruitori dei contenuti che trovate su questo canale beh un like, un commento e semmai una condivisione sono sempre una cosa gradita. Detto questo non perdiamoci in chiacchiere perché vedete qui ho una bella pila di cose che vi voglio mostrare perché questa prima parte del mese di gennaio è stata davvero una parte molto interessante per quanto riguarda gli acquisti ma non perdiamoci in chiacchiere iniziamo da Mamma Star Comics. Il primo recupero che ho fatto di Casa Star Comics è il volume numero 45 di iQ. Ho finalmente concluso questa serie, l'ho letta tutta, ve ne ho parlato in uno dei video relativi alle letture della settimana quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere e sì, iQ è stata una serie che mi è piaciuta tantissimo. Continuando in Casa Star Comics ci rivolgiamo al volume numero 4 dello spin-off di Shaman King Red Crimson, anche di questo ve ne ho parlato, non mi voglio dilungare, uno spin-off davvero molto gradevole. Continuano le avventure di Detective Conan e ho recuperato nella prima parte di gennaio il volume numero 31 che però purtroppo ancora non ho letto. Arriviamo a questo punto ai recuperi sempre in Casa Star Comics che riguardano l'universo di Akira Toriyama perché sì, ve lo avevo anticipato, sto provando a recuperare cose di Akira Toriyama e questo mese, beh, tocca a due volumi, ovvero al volume numero 1 e al volume numero 2 di Menù alla Carta. Si tratta di due numeri che a essere sincero ancora non ho letto, ho messo in conto di farlo nelle prossime settimane quindi se volete saperne qualcosina in più, beh, vi ricordo iscrivetevi al canale perché sì, di settimana in settimana vi racconto tutte le cose che leggo sia a tema manga che a tema libri. Ultimo recuperone di Casa Star Comics è il volume numero 9 di Dragon Ball, ho recuperato questo numero della Ultimate Edition, sto aspettando che il prossimo mese si spera esca regolarmente il numero 10 e poi sì, inizierò a rileggere Dragon Ball o comunque vorrei iniziare a rileggerlo. Arrivati a questo punto passiamo ai recuperi fatti in Casa Planet Manga e sapete benissimo che io sto recuperando tutti i volumi della Naruto Saga in uscita di settimana in settimana nelle edicole e ho recuperato dal numero 25 al numero 27 e come vuole la tradizione adesso vi mostro le copertine. Prima di farlo però vi ricordo che se è la prima volta che passate su questo canale e volete supportarmi, beh, potete iscrivervi, attivare la campanella, insomma, impostare la voce notifica su tutte, lo sapete, le cose sono sempre le stesse ma per me è un grande aiuto. Volume numero 25, Alba, fiori del male, dischiusi. Volume numero 26, Boruto, Naruto, The Movie. Volume numero 27, Itachi, il giorno. Sono sincero, ve l'ho detto anche nei mesi scorsi, ancora non sto leggendo tutti questi volumi della Naruto Saga, probabilmente inizierò a recuperarli piano piano nei prossimi mesi. Continuando sempre in Casa Planet Manga e soprattutto rivolgendoci al mondo, all'universo di Naruto e di Masashi Kishimoto, beh, ho recuperato il numero di sotto di Boruto. Un numero che purtroppo però ancora non ho letto perché ho recuperato nei giorni passati ed è posizionato in un posticino della mia libreria dove vado a collocare tutte le letture da fare nel corso dei prossimi giorni. Quindi non appena lo leggerò ve ne parlerò sicuramente in uno dei video dedicati alle letture della settimana. Chiudiamo gli acquisti di questa prima parte del mese con il volume numero 18 di Full Metal Alchemist. Finalmente concludo questa serie. Ancora non ho letto questo volume perché in realtà devo leggere prima il numero 17, infatti provo a non aprirlo proprio per evitare di farmi spoiler. Io è la prima volta che leggo quest'opera, un'opera della quale mi sono letteralmente innamorato e quindi davvero nei prossimi giorni in cima alla lista delle cose da leggere ci sono sicuramente il volume numero 17 e questo volume numero 18 di Full Metal Alchemist. Quindi ve ne parlerò perché davvero è stata un'opera che mi è piaciuta tantissimo e non vedo l'ora di sapere quale sia il finale di questa storia che per me davvero è superlativa. Detto questo ci fermiamo, questo è il malloppo di cose che mi porto a casa in questa prima parte di gennaio 2023, ve lo ripeto non vi parlo in maniera approfondita dei manga che acquisto nel corso del mese perché quelli che leggo ve li racconto nel corso delle settimane proprio qui su questo canale, anzi qualche giorno fa è uscito l'ultimo video relativo alle mie ultime sole due letture, quindi se volete recuperatelo. E niente, basta, io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video, se siete nuovi ve lo ripeto e vi piacciono i miei contenuti potete iscrivervi, attivare la campanella e impostare la voce notifiche su tutte. Se invece siete delle persone che guardano spesso i miei video e se mai siete già iscritti al canale, beh lo sapete, un like, un commento e una condivisione sono sempre una cosa gradita, ve lo ripeto. Anzi, se vi va sotto nei commenti, fatemi sapere quali sono stati gli acquisti, i vostri acquisti di questa prima parte di gennaio. Basta, noi ci fermiamo, ci rivediamo a un prossimo appuntamento sempre sul canale, qui leggo dunque sono perché lo sapete, voglio raccontarvi tutto quello che riguarda il mio viaggio nel mondo della lettura. Che si tratti di libri, di fumetti o di manga, poco importa, dal nome del canale lo capite, voglio condividere con voi le mie letture e quale posto migliore per farlo in maniera un pochettino più approfondita, proprio qui su YouTube. Ci rivediamo a un prossimo episodio, ciao! Ah, ultima cosa, come al solito, vi ricordo che se avete dei titoli simpatici che mi volete consigliare, avete la sezione commenti, scrivetemeli perché sto prendendo appunti. Un po' di tempo fa ho pubblicato un video sui buoni propositi manga del 2023, ma questo non significa che io non possa aggiungere altri titoli alle cose da leggere quest'anno, quindi sbizzarritevi nei commenti.